Inizierà il 23 giugno il processo a carico del marito della donna morta Meda Deddu il 2 agosto 2017. Il figlio della donna ha scelto il rito abbreviato per rispondere di maltrattamenti. E' stata rinnovata la RSU dell'azienda sanitaria locale numero 7. La funzione pubblica CGL ha eletto 8 componenti su 18, 4 la CISL funzione pubblica, 2 a testa, altre 3 sigle sindacali. Il comune di Carbonia è in campo con misure di contrasto al caro energia. La situazione si è ulteriormente complicata dopo i disagi provocati dalla pandemia. La Torres vola in semifinale di Coppa Italia in Serie D. L'Ossese, battuta 3 a 1 a Barletta, resta in corsa nella semifinale della Coppa Italia di eccellenza. Ben ritrovati al consueto appuntamento con il nostro telegiornale che oggi si apre con la cronaca. Inizierà in corte d'assise a Cagliari il prossimo 23 giugno il processo a carico di Giuseppe Lorenzo De Murtas, 63 anni, marito di Anna Maria Merola. L'infermiera, 59 anni, è morta per asfissia il 2 agosto 2017 a seguito dell'incendio sviluppatosi nell'abitazione di via Cristoforo Colombo a Medadeddu, periferia di Carbonia. I giudici dovranno accertare se l'incendio sia stato provocato, come sostiene la difesa, da un cattivo funzionamento dell'impianto di climatizzazione o dalla volontà, viceversa, di provocare la morte della donna da parte del marito, per il quale il sostituto procuratore Paolo De Angelis ha chiesto il rinvio a giudizio, richiesta accolta dal GUP Lucia Perra. Il figlio di Giuseppe De Murtas, Roberto Trentani, ha chiesto il rito abbreviato che avrà inizio il 13 luglio per l'accusa di maltrattamenti. Sono 2.870 nuovi positivi al Covid-19, numero in crescita in Sardegna su 16.378 tamponi eseguiti, 238 dei quali diagnosticati nuovi casi da molecolare, 2.632 da antigenico. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, qui c'è una diminuzione di 3 unità, 3 unità in meno anche per il numero dei pazienti ricoverati in area medica sono 326. Sono invece 29.861 le persone che si trovano in stato di isolamento domiciliare, qui c'è un incremento di 267 unità. Si registrano purtroppo ancora dei decessi, 2, un uomo di 79 anni, una donna di 87, residenti entrambi nella provincia del sul Sardegna. Si sono svolte due settimane fa le elezioni per il rinnovo della RSU dell'azienda sanitaria locale 7, 18 i componenti eletti. Su 1.068 aventi diritto hanno votato 716 dipendenti. Erano 6 le liste presentate. La più votata è stata quella della funzione pubblica CGL che ha ottenuto 308 preferenze e ha eletto 8 componenti. Alle sue spalle la CISL funzione pubblica con 153 voti, 4 componenti eletti, 2 eletti a testa per le liste FIALS 88 voti, WILL FPL 83 voti e NURSING 60 voti. Non ha eletto rappresentanti la lista del NURSING UP che ha ottenuto soltanto 12 voti. Gli eletti sono CGL Funzione pubblica, Gino Cadeddu, Alessandro Meloni, Monica Secci, Gianfranco Ruh, Pierre Palovarca, Nadia Fois, Margherita Bagli e Gabriella Cucinotta. CISL Funzione pubblica, Andrea Porco, Alberto Lenzu, Francesco Bianco e Massimo Sulas, FIALS, Tiziana Azzeni e Giannina Mulas, WILL FPL, Mario Ruh e Marinella Spanu, e infine NURSINGD, Marco Zurru e Gabriella Mele. Vediamo ora un servizio sugli interventi e sulle risorse stanziate dall'Aggiunta regionale per contrastare l'erosione delle coste. Nell'ambito degli interventi di difesa dei litorali e di contrasto all'erosione costiera, oltre ai 6 milioni di euro per il triennio 2021-2023 già programmati, la Regione Sardegna ha stanziato altri 2 milioni per il 2022, così da completare il quadro già avviato con ulteriori interventi strutturali di difesa del suolo in ambito litoraneo, messa in sicurezza, mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico, misure che hanno un riflesso positivo anche sulle ipotesi di rischio a cui è esposta la popolazione, essendo beni di fruizione pubblica. Lo ha detto ieri il Presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas, annunciando la programmazione di queste ulteriori risorse a favore delle amministrazioni comunali, provinciali e metropolitane che abbiano disponibile una progettazione definitiva o esecutiva tale da garantire l'appalto e l'affidamento dei lavori entro l'anno e che siano eseguibili e ultimabili entro il 2023. Si tratta di interventi di riqualificazione ambientale a salvaguardia dell'erosione costiera, soprattutto nei territori, anche contigui, dove sussistono situazioni di criticità, ha aggiunto l'assessore regionale della difesa dell'ambiente Gianni Lampis. L'ente locale dovrà inviare la richiesta al Servizio di tutela della natura e politiche forestali dell'assessorato regionale della difesa dell'ambiente tramite PEC all'indirizzo difesa.ambiente.pec.regione.sardegna.it entro il decimo giorno di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale della regione. La richiesta dovrà essere accompagnata dalla copia della relazione del progetto, del relativo computometrico estimativo, del quadro economico e dei pareri autorizzazioni acquisiti. La risposta del governo durante il question time di ieri alla Camera dei Deputati testimonia l'impegno di Sogin nell'accelerazione delle attività che consentirà entro quest'anno di superare la soglia del 45% nell'attività di decommissioning nucleare. Lo si legge in una nota diffusa stamane da Sogin. Il riferimento fatto ieri dal ministro per i rapporti con il Parlamento Federico Dincà al piano industriale 2020-2025 varato dall'attuale governance aziendale aggiunge la nota consente di ricordare e confermare l'obiettivo di realizzare nell'arco di piano un volume di attività per oltre 900 milioni di euro. Il picco è nel bienio 2022-2023 con l'avvio tra l'altro degli smantellamenti dei reattori della centrale di Garigliano e Trino che rappresentano i lavori più complessi dal punto di vista ingegneristico e operativo nella dismissione di un impianto nucleare. Non a caso pochi giorni fa è stata lanciata la gara, a conclude la nota, per l'affidamento dei lavori di smantellamento del nocciolo del reattore della centrale del Garigliano ossia di tutti i componenti metallici attivati denominati internals presenti nel vessel che è la struttura nella quale durante l'esercizio avveniva la reazione nucleare. Il comune di Carbonia mette in campo misure di solidarietà in aiuto alle famiglie per contrastare il caro energia e per sostenere le spese quotidiane. Vediamo i particolari nel servizio. La Giunta Comunale di Carbonia ha approvato i criteri per l'erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno dei nuclei residenti in città dando priorità a quelli che sono privi di altre misure di sostegno al reddito per supportarli nel pagamento delle bollette, degli affitti e della Tari dovuta dalle utenze domestiche. Sono stati messi a disposizione complessivamente circa 298.000 euro di cui nel dettaglio 178.000 per far fronte a utenze domestiche e servizi essenziali e nello specifico luce, gas e acqua potabile d'affitto denominata nel documento della delibera linea 1. 120.000 euro per il pagamento della tassa su rifiuti linea 2. A ciò si aggiunge la misura di solidarietà alimentare già in essere i cosiddetti buoni spese a linea 3. Per poter accedere alla linea 1 i beneficiari devono aver sottoscritto contratti di locazione regolarmente registrati ed essere residenti nel comune di Carbonia. Devono altresì essere in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 12.000 euro, valore elevato a 20.000 nel caso di nuclei con almeno 4 figli a carico. Il contributo destinato alle bollette è per il pagamento di quelle insolute e per i rimborsi delle spese già sostenute nel periodo gennaio-marzo 2022. Per ottenere buoni spesa i requisiti per accedere sono i medesimi. Per quanto riguarda la linea 2, ovvero la misura relativa al pagamento della tassa su rifiuti, la certificazione ISEE del richiedente non deve superare i 20.000 euro. Il contributo sarà calcolato sulla Tari 2020-2021. Il tetto massimo del contributo, una tantum, disposta a favore di ciascun nucleo e di 500 euro per la linea 1 e 2, in riferimento al periodo pandemico e limitatamente rimborsi delle bollette già pagate nel periodo gennaio-marzo 2022, colpito dai forti rincari. La domanda di partecipazione, per ciascun avviso, potrà essere presentata entro e non oltre venerdì 6 maggio, in formato PDF a mezzo PEC all'indirizzo comcarbonia-pec.comcarbonia.org, avendo cura, nell'ipotesi in cui la casella di PEC non fosse intestata richiedente, di allegare copia di un documento di identità in corso di validità, e altresì ammessa in via residuale la consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di Carbonia da lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì dalle 16 alle 17. Ancora sociale per la Città di Carbonia è stata pubblicata sulla home page del sito del Comune di Carbonia l'informativa sul bando Oncar Premium 2022. L'avviso è rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione Unitalia, prestazioni, creditizie e sociali, a beneficio dei loro coniugi e per i parenti di primo grado non autosufficienti. La procedura per presentare la domanda sarà attiva sino alle ore 12 del prossimo 30 aprile sul sito dell'Inps. Entro il 31 maggio prossimo l'Inps pubblicherà la graduatoria e a decorrere dal prossimo 1 luglio sarà possibile presentare le nuove domande. Puntiamo tanto su un turismo integrato a 360 gradi, su un turismo sostenibile, ambientale ed esperienziale. Anche le iniziative promosse da Eboaz Sardinia contribuiscono a promuovere al meglio la nostra città, a far conoscere ed apprezzare veri e propri tesori che hanno molto da offrire. A dichiararlo è stato l'assessore delle attività produttive e turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, in occasione dell'avvio della stagione 2022, che vede le barche elettriche tornare protagoniste dopo due anni difficili. Prima in Italia, sin già dal 2019, le Eboaz possono essere noleggiate da chiunque nel porticciolo di Marina Piccola, perché non richiedono patente nautica, perfette per scoprire e godersi inediti angoli della città accessibili, soltanto dal mare, come per esempio le cale dietro la Sella del Diavolo e Capo Sant'Elia. A San Luri i numeri dell'ufficio del giudice di pace sono rilevanti e vediamo i particolari nel servizio che abbiamo preparato e che vi proponiamo. Crediti insoluti e opposizioni a verbali amministrativi per violazioni al codice della strada, minacce, percosse, lesioni lievi e pascolo abusivo sono le materie principalmente trattate dall'ufficio del giudice di pace di San Luri, un importante servizio che l'Unione dei Comuni della Marmilla offre a tutto il territorio. Numeri importanti, infatti, di udienze, nuove iscrizioni e procedimenti penali definiti. Nel primo trimestre del 2022 una leggera tendenza al rialzo, hanno detto dagli uffici del giudice di pace ospitati nel Palazzo Municipale di San Luri, sotto la guida del responsabile di servizio Giorgio Sogos. Esprimiamo la più viva soddisfazione per essere riusciti a mantenere negli anni questo ufficio a disposizione di tutti i Comuni della Marmilla, ha aggiunto il Presidente dell'Unione, Marco Pisano. All'ufficio del giudice di pace affiancheremo presto anche l'ufficio di prossimità, chi si occuperà, del disbrigo di diverse pratiche e risparmierà ai cittadini del territorio lunghe trasferte a Cagliari. Nel 2021 iscritti 84 fascicoli, emesse 30 sentenze, 49 decreti ingiuntivi, 17 cancellazioni. Nel 2021 sono state inoltre le iscrizioni maggiori per procedimenti di decreto ingiuntivo, mentre 6 sono state le udienze. Per quanto riguarda l'ambito dei procedimenti penali, nel corso del 2021 sono sopravvenuti 16 nuovi procedimenti, mentre ne sono stati definiti 9. 5 consentenze di assoluzione pro scioglimento, 2 definiti con conciliazione tra le parti, 1 per remissione di querela presso le forze dell'ordine, 1 in altro modo. Siamo alla cronaca, ieri i carabinieri del radiomobile della compagnia di Dolianova hanno denunciato a piedi libero un trentenne disoccupato che si è messo alla guida dell'auto del padre convivente in stato di ebrezza alcoliche ed è andato a sbattere contro tre auto regolarmente parcheggiate, abbandonando successivamente il veicolo sul luogo dell'incidente, senza ottemperare agli obblighi di fermarsi. I militari hanno accertato l'accaduto intorno alle 5.30, dopo essere intervenuti per un sinistro stradale in via Montessori. Hanno rintracciato poi il giovane nei pressi dell'abitazione di residenza. In quel momento era privo di documenti, era stato comunque sottoposto ad accertamento del grado alcolemico, tanto che i militari hanno potuto constatare che si trovava in stato di ebrezza alcolica, come confermato dai testi eseguiti, con un tasso alcolico doppio rispetto al massimo consentito. I rilievi planimetrici sono stati effettuati, i danni ai mezzi devono ancora essere quantificati, in mezzo è stato restituito infine al genitore del ragazzo denunciato. Un 47enne padovano, residente in provincia di Tolino, è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata dai carabinieri di Uta, a seguito della denuncia querela presentata da un'impiegata a 29enne del luogo. L'uomo, dopo aver ricevuto dalla denunciante la somma di 160 euro per l'acquisto di una console Nintendo Switch, posta in vendita su Facebook, dopo aver ricevuto il denaro accreditato gli tramite la ricarica di una carta post-pay evolution, aveva omesso di spedire la merce, rendendosi successivamente irripedibile, in maniera da non dover dar conto alla vittima del proprio comportamento, nella speranza che tale raggino potesse restare impunito. Così non è stato. I carabinieri sono riusciti a identificarlo, come al solito, seguendo il percorso del denaro e andando a verificare chi fosse l'utilizzatore dell'utenza telefonica impiegata per raggirare la ragazza. Questa mattina, intorno alle 9.30, i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato sulla strada statale 125 nei presi del Materolbia. Un pick-up è uscito di strada, ribaltandosi, probabilmente a causa dell'asfalto viscido per le piogge, lievemente ferito il suo conducente, trasportato dal 118 all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Gli operatori hanno messo in sicurezza il veicolo e l'aria circostante. Sul posto è arrivata e intervenuta anche la polizia locale di Olbia. Poco prima, intorno alle 9.15, i vigili del fuoco di Sassari sono invece intervenuti per un incidente stradale che si è verificato in via Giovanni Paolo II direzione Ittiri. Sono stati due i veicoli coinvolti, le due conducenti sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Sul posto anche qui è intervenuta la polizia locale. Una gestione virtuosa che dimostra ancora una volta, pur nelle grandi difficoltà di questi tempi, le enormi potenzialità anche turistiche del nostro patrimonio storico e culturale sul quale vogliamo costruire un modello nuovo di crescita. Il presidente della regione Cristian Solinas ha commentato con soddisfazione i dati relativi all'afflusso di visitatori a Barumini che tra Sunuragi, Casa Zapata e il centro Giovanni Lillio ha accolto nel Ponte Pasquale 3.505 persone, ritornando così sui livelli del 2019, cioè i livelli pre-Covid. Nell'ultimo anno pre-Covid infatti i visitatori hanno stati 3.760. Dopo due anni nel corso dei quali i numeri del ponte siano fermati a zero, i turisti sono dunque finalmente ritornati a Barumini. Grande soddisfazione anche da parte del segretario generale della Fondazione Tonino Chironi. Il dato relativo al Ponte di Pasqua ci conforta e ci sprona a far sempre meglio nel futuro. Il fascino del nostro patrimonio archeologico ha sottolineato ancora Tonino Chironi. È un'attrazione formidabile e rappresenta una grande forza economica. La Fondazione Barumini infatti è un esempio di gestione virtuosa e garantisce il lavoro ad oltre 60 persone. Domani, venerdì 22 aprile, alle 10.30, nella sala convegni dell'Istituto Comprensivo Domilani in Via Dalmazia a Carbonia, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 26esima edizione di Monumenti Aperti 2022, in questo caso, che si svolgerà a Carbonia il 7 e l'8 maggio, con l'obiettivo di promuovere e di valorizzare i beni culturali e ambientali del patrimonio locale. Alla conferenza stampa interverranno il Sindaco Pietro Moritto, la Giunta, il Presidente e i componenti del Consiglio Comunale, ancora Massimiliano Messina e Giuseppe Murru, rispettivamente Presidente e responsabile della comunicazione di Imago Mundi e TS ODV, organizzazione regionale della manifestazione Monumenti Aperti. Sono stati invitati inoltre i dirigenti degli istituti scolastici cittadini ed una rappresentanza degli studenti e dei docenti, impegnati nello studio di ricerca storica e di preparazione dei percorsi di guida per i numerosi visitatori dei monumenti e dei siti adottati. È tutto pronto, Iglesias, per l'Octave Festival OKTV, tre giorni da domani, venerdì 22, a domenica 24 aprile, interamente dedicati alla New Media Art, organizzati dall'Associazione Accademia Terra, dietro la direzione artistica di Simone Lumini. La giornata di apertura di domani proporrà un variegato ventaglio di iniziative aperte al pubblico, tutte gratuite, tra queste l'inaugurazione alle 10.30 nel Centro Culturale di Via Cataneo di obsolete NFT Social Expo, gli NFT, l'arte digitale e le criptovalute per mitigare le criticità socioculturali. L'esposizione è la prima dedicata al NFT, e acronimo che sta per Non Fungible Token, cioè opere d'arte che popolano i mercati digitali, realizzata in Sardegna e sarà accompagnata da un allestimento legato al tema dell'obsolescenza e del riciclo. Con la giornata di venerdì nel Centro Culturale di Via Cataneo, a Iglesias, si aprono anche le masterclass, i workshop dedicati alle scuole primarie, medie e superiori della città, ed il liceo Siotto Pintor di Cagliari. Siamo allo sport. La Torres ha superato lo scandiccio e i calci di rigore si è qualificata per le semifinali della Coppa Italia di Serie D. Si giocava in partita secca. La squadra di Alfonso Greco, scesa in campo all'Aquedotto con una formazione d'emergenza per squalifiche e infortuni, ha tenuto testa al quotato avversario nei tempi regolamentari, terminati senza gol, dopo 8 minuti di recupero, ha avuto la meglio alla loteria dei calci di rigore. Ben 12 quelli battuti, calciati per decidere la qualificazione alla semifinale. Per la Torres, seconda in classifica in campionato, a 6 punti della capolista Giuliano, si tratta di un risultato di grandissimo prestigio nei giorni in cui ha festeggiato il suo 119esimo compleanno. Ieri intanto sono stati disputati tre recuperi di campionato, un gol del 18enne Nicola Garau dopo 5 minuti di gioco ha regalato i tre punti al Muravela nel recupero di Arzachena, spegnendo probabilmente le ultime possibilità della squadra di Marco Napi di tornare a insidiare il primo posto del Giuliano per la promozione diretta in Lega Pro. La 3 di Cuglia ha perso un a zero sul campo dell'insieme Formia, scontro salvezza, restando ferma a quota 30 punti e il 13esimo posto. Il Gladi ha tornato a vincere sul campo del Cassino, confermando di avere letteralmente cambiato marcia nel giorno di ritorno con 27 punti in 12 partite. Il Cassino è stato così raggiunto a quota 26 punti dall'insieme Formia. Vediamo ora un servizio sulla Coppa Italia di eccellenza, sulla sconfitta ma ancora con partita aperta per la qualificazione e maturata a Barletta per la squadra dell'Ossese. Vediamo quindi il servizio, ricordando anche che è stata rispottata ieri una partita di recupero, l'Ilva Maddalena ha vinto 5 a 0 sul campo del Sant'Eleano. Il Barletta ha superato la Polisportiva Ossese 3 a 1 nella partita di andata della semifinale della Coppa Italia di eccellenza regionale. La squadra pugliese ha sbloccato il risultato al 28esimo del primo tempo con la Vopa. Raddoppio allo scadere al 45esimo con Pignataro con un gran colpo di tacco. Terzo gol del Barletta all'ottavo del secondo tempo ancora con Pignataro. La Polisportiva Ossese dopo vari tentativi ha realizzato il gol che tiene aperto il discorso qualificazione all'ultimo minuto con Chelo. Ieri pomeriggio intanto si è disputato anche un recupero di campionato. L'Ilva Maddalena dopo la vittoriosa partita con il Talaro Gavoi scontro al vertice ha travolto in trasferta il Sant'Eleano a 5 a 0 con tripletta dell'argentino Tapparello e gol dell'altro argentino Cacero e di Domenico Messina. Con i tre punti si è isolata al comando della classifica nel campionato di eccellenza. La corsa verso la promozione Serie D resta comunque aperta con ben quattro pretendenti perché a tre giornate dalla fine l'Ilva Maddalena ha tre punti di vantaggio sulla Polisportiva Ossese e quattro sulla coppia formata da Ferrini e Talaro Gavoi con la Ferrini di Sebastiano Pinna che deve recuperare una partita con il Sant'Elena. E domenica è in programma il confronto diretto tra queste due squadre sul campo della Ferrini. Si sono svolti dal 15 al 17 aprile presso il Motorsport Arena di Oskarsleben in Germania i test ufficiali del campionato europeo Norter Talent Cup facendo parte del programma Dorna Road to MotoGP che si disputerà negli stessi weekend e stesse piste della MotoGP. Matteo Masili conosciuto come Titino 46 in sella alla KTM del team ungherese Fire Room Next Generation Riders Team è stato scelto dalla Dorna tra i migliori 27 piloti europei come unico pilota a rappresentare i colori italiani. Durante i test è risultato con le sue brillanti prestazioni il miglior rookie restando stabilmente tra i primi 6 piloti più forti in assoluto tenendo così alti i colori dell'Italia e soprattutto della Sardegna. Il primo GP verrà disputato nel circuito di Le Mans a metà maggio in concomitanza con le gare della MotoGP a seguire ci saranno i Grand Prix di Oscar Sleven il 20 e 22 maggio Saks Haring 17 e 19 giugno Assen 24 e 26 giugno Most 29 e 31 luglio Assen 12 e 14 agosto Red Bull Ring 2 e 4 settembre tutti i GP i Grand Premi potranno essere visti in diretta sul canale YouTube Norton Talent Cup i canali ufficiali Dorla e IDM per maggiori informazioni sui giorni orari dei Grand Premi potrete seguire Titino 46 sul sito ufficiale www.titinoreader.com oppure le pagine ufficiali Facebook Titino 46 e Instagram 46 Titino Era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni augurandovi di trascorrere come sempre una buona giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti